Maria Chiara Soldini, bentornata tra noi. Grazie mille, buongiorno. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi whatsapp è il 338 17 19 105. Se ci volete chiamare fatelo 037663 17 09. Poi ancora, le linee sono sempre aperte anche in questo momento. Poi l'indirizzo mail è diretta a chiocciolatemporadio.it Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio e anche su YouTube. Eventualmente lì potete seguirci e anche cercate Temporadio Live primo marzo. A proposito, buon primo marzo, buon mese di marzo. È marzo? È marzo. Non me ne sono neanche resa conto. Non ha studiato la poesia pioggerillina di marzo, il mese in cui l'inverno molla. È tipico, la neve poi è tipica di marzo, soprattutto nelle nostre zone. Non ricordo il tempo di vedere una primavera così bianca proprio. Mamma mia. Io penso alle violette le primule che avevo fuori caso. Sì, no, secondo me dopo la neve non sono sicura che le ritroverà. Allora, neve. La neve è bella. La neve è bagnata. La neve crea disagio. Tantissimo disagio. La neve erano settimane che era prevista come Comune di Montichiari. Sono due giorni che mandiamo fuori i mezzi spargisale a spargere il sale su tutte le strade del territorio. Se poi qualche strada ce la siamo dimenticata, scusateci cittadini. Però è anche vero che adesso la neve è troppo bassa per essere asportata, quindi per essere spazzata e messe in parte. Stamattina ho ricevuto numerosissime chiamate in cui mi dicevano, insomma, quando è che venite a punire la neve? È troppo presto. La neve per utilizzare le lame deve essere almeno 5-6 centimetri. Non solo a Montichiari ma in tutta Italia e penso anche in tutto il mondo. Quindi in questo momento c'è questo, non lo so, io lo chiamo picciapoccio, però il termine poi tecnico o italiano non saprei definirlo. Che è veramente pericoloso perché adesso fa anche molto freddo, quindi quello strato lì di acqua, ghiaia, fango, si ghiaccia e è pericoloso. Quindi usciamo se dobbiamo uscire, ma se non è necessario, anche se facciamo una mattinata a casa invece di andare al supermercato a prendere il pane, lo facciamo per la nostra sicurezza. Stiamo un attimino più attenti, andiamo soprattutto piano e soprattutto nelle strade di campagna. Prestiamo attenzione ancora di più rispetto al paese perché il paese continua a passare e magari sulle strade di campagna no. Ad esempio io ho fatto Montichiari-Castiglione e ho impiegato 20 minuti. Di solito ne impiego 10, oggi ho impiegato il doppio, però si va piano. Poi quello che ti supera e ti spanala e ti dice di accelerare lo trovi sempre in qualsiasi situazione, anche con la nebbia. Però davvero andiamo piano perché è prevista neve oggi tutto il giorno, domani tutto il giorno e poi sabato di pioggia. Esatto. Sabato la pioggia dovrebbe... Risciacquio calpestio. Allora, le chiediamo se può mettere la cunfia perché c'è un ascoltatore o ascoltatrice in linea. Dico subito a chi è in linea, adesso lo mandiamo in onda, non si può parlare di elezioni. E neanche dire le parolacce. E neanche dire le parolacce o altro, assolutamente. Allora, vediamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì, buongiorno. No, io parolacce non le dico a nessuno. No, era una battuta, ovviamente. Montichiari, noto con piacere, io sono di Castiglione, che Montichiari è avanti e rispetto a tutti gli altri paesi. Dove non lo ritengo avanti è nelle fermate degli autobus, tipo lì, Aglio Bagli e tante altre. Con tutto lo spazio che c'è lateralmente, io ho fatto vent'anni da Germania, alla Svizzera, in Pullman ancora 40 anni fa non si fermavano sulla statale. Questo non solo a Montichiari, ma anche a Castiglione, a Guilicciolo, però voi di solito avete migliorato in qualche circostanza. Non potreste fare anche questo? Benissimo. Migliorare la fermata degli autobus? La domanda è chiarissima, le faccio rispondere tramite radio. Grazie moltissimo. Grazie, buona giornata a lei. Grazie, buona giornata. Allora. Posso togliere le cuffie? Certo, può togliere le cuffie. Eh no, è questa innovazione, è la prima volta che qualcuno mi chiama. Non lo sapevo. Hanno già chiamato per Montichiari. Allora, fermate. Allora, fermate. Le fermate sono, chiamiamolo, territorio di competenza della provincia e comunque se ne occupa di solito l'APAM, che è l'azienda che si occupa dei trasporti pubblici nella provincia di Brescia. È vero, in alcuni casi lo stesso comune è intervenuto per cambiare le pensiline e migliorare la situazione, anche perché ci sono delle fermate che sono veramente pericolose. Penso, quando si riferisse ai Novagli, credo intenda la fermata dei Tre Aranci, dove effettivamente il pullman si ferma sulla strada. C'è anche da dire che adesso lì faremo una rotonda. Ci sarà la rotonda dei Tre Aranci. Non so se avete presente la zona, però è molto pericoloso, pieno di tamponamenti e di incidenti anche nel passato piuttosto gravi. Quindi verrà fatta una grande rotonda e adesso non è proprio di mia competenza, quindi chiedo scusa ma non so se sarà prevista una uscita per i pullman particolare, però mi informo. Va bene, grazie, grazie. Allora, stavamo dicendo la neve, posso confermare, tra l'altro mi ricordo una volta, tanto tempo fa, non lavoravo in questa provincia, non lavoravo da un'altra parte. Arrivò una nevicata, fu una spolverata di 2-3 centimetri e passarono gli spalaneve. Il risultato fu che, lei sa pattinare sul ghiaccio? Eh no, sì, ma male, in maniera imbarazzante. Comunque fecero praticamente una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Con il risultato che anche i SUV, anche quelli con le gomme da neve, eccetera, andavano da tutte le parti perché non c'era proprio più aderenza, cioè fecero peggio. Sì, sì, assolutamente fanno peggio e in più i mezzi si rovinano, si rovinano perché è ovvio se la palla va contro la strada si rovina, quindi... Sì, a parte che poi dopo quando si sciolse avevano portato via metà dell'asfalto, e così via, per cui fu veramente un problema. Quindi, attenzione, non si può ancora spalare. No, non si può, bisogna aspettare 5-6 centimetri, davvero, ripeto, non è un problema nostro, è un problema di tutta Italia, se poi c'è un altro modo per spalare la neve che qualcuno si faccia avanti e lo dica, rimane comunque il rimedio del sale. Noi continuiamo a mandar via sale. Ho visto anche Castiglione, adesso arrivando qua, avevo davanti un mezzo spargisale, metà è finito sulla mia macchina, ma l'altra parte era per le strade, quindi noi continuiamo a buttar via il sale. Poi, se va avanti di questo passo, adesso sono le 10, nevica da stanotta alle 2, i nostri mezzi sono usciti a due e mezza, tre, probabilmente stasera alle 5-6 passeremo con le lame, perché adesso viene... Certo, certo. È una bella nevicata. Allora. Primaverile, una nevicata primaverile. Beh, la più tardiva che ricordo fu il 15 di aprile. Ah, qui da noi? Qui da noi. Ero a Brescia città, proprio quando nevicava. Allora, mezz'ora per passare il comune. Mezz'ora per passare il comune. Vabbè, sortiamo a chi ha scritto. Ma sì, qual è il problema? Ah, mezz'ora per passare. Immagino per attraversare il comune. Qual è il problema? Le scuole. Le scuole. Dalle 8 alle 8.20, da un quarto alle 8, 8.20, si crea un ingorgio in tutto il paese quando è normale. Quando piove non parliamone e oggi con la neve praticamente non passi più. Poi ci sono stati anche una serie di incidenti alla fascia d'oro di persone che sono uscite di strada e quindi c'è un po' di disagio. No, no, c'è il disagio. Non sono qui a dire che Monticari sia tutta pulita. Il disagio è normale che ci sia. Chiedo prudenza. Quello, in generale, penso sia di buon senso. Allora, è sempre colpa del sindaco, dice. Ma chiaro, ma ovvio. Ma qualsiasi cosa è colpa del sindaco. Io adesso non ho soldi questo mese. È colpa di mare, fa caro. La provincia ha messo il sale e chiedono. No, l'hanno usato tutto per il risotto. No, l'hanno messo, l'hanno messo. Sì, anche sulle strade provinciali. Ripeto, ho fatto Monticari-Castiglione ed è provinciale. Era pulita. No, davvero era pulita. Allora, fermiamoci un attimino con l'assessore del Comune di Monticari, Maria Chiara Soldini. Ci troviamo tra un po' di minuti nella seconda parte. Arriviamo. Novità alla farmacia. Prendo questa puntata di filo diretto con gli ascoltatori, con l'assessore del Comune di Monticari, Maria Chiara Soldini. Si parlava di neve. Sono tanti anche i messaggi che sono arrivati. Poi hanno... Vogliamo parlare di quelli che non hanno le gomme invernali? Dice un ascoltatore. Eh sì, parliamone. Devo dire, mi metto in quella categoria. Ne almeno io ce l'ho. Ho le quattro stagioni. Però direi che è il caso di andare a prendere le catene, almeno per andare in autostrada. Perché esatto, ci sono le quattro stagioni che non è soltanto la pizza, ma ci sono appunto queste gomme tallonate comunque che a seconda di quanto le gonfi sono invernali. Esatto, e aiutano. Poi sarebbe bello poterle cambiare. Allora, a Bredazzane non si vede nessuno che ci segnalano. No, sono passati... Tra l'altro il sindaco è di Bredazzane. Stamattina a 8.20 era in Comune. E gli ho chiesto, come hai fatto? Sei arrivato tutto bene? Sì, mi ha detto, sono andato piano. Era un po' sporco nella parte della campagna. Poi arrivando in centro si pulisce. Comunque sollecitiamo i nostri a passare da Bredazzane, per la carità. Sì, però scusi, sul sindaco non nevica. No, è vero, questo è vero. È vero, anzi lui è... Non nevica, non piove, c'è sempre il sole. C'è anche, vabbè, una protesta, tra ditte e neve si blocca, eccetera. Devo dire, agli ascoltatori non è solo a Montichiari. Io non abito a Montichiari, non abito nemmeno qua a Castiglione e anche dove abito io. Allora, macchine intraversate e cose di questo tipo. Allora, vediamo. Dunque, saluto Alex e il messaggio dopo te lo leggiamo all'assessore. Assessore, ci sono alcuni che fanno motocross in discarica e con le ruote, dice, sollevano polvere che poi respiriamo tutti e chissà cos'è. Sì, ho letto, ho visto tra l'altro dei video e i furbacchioni hanno pubblicato il video con tanto di nome e cognome di chi faceva il motocross. Bravi, complimenti, vi siete autodenunciati. No, allora, è motocross, non è proprio una discarica. Qual è un sito inquinato? È l'ex sito inquinato Bicelli. Poi, come al solito, ci sono persone che abbandonano borsina e sacchetti ovunque c'è un posto un pochettino abbandonato in Monticari e decino di sporcarlo ulteriormente e ci sono dei video dei ragazzi che fanno motocross. Sì, che si sono appunto in questo modo autocostituiti. Volevo leggere questo messaggio così parliamo di un altro argomento. Soldini, salve, le faccio i complimenti perché lei è una guerriera. Quante probabilità avete di vincere contro AIB? Quindi ce l'hanno già chiesto gli ascoltatori. Allora, secondo me, molte. Cioè, spieghiamo, avete fatto un ricorso contro l'Associazione Industriale di Bresciani? Perché l'Associazione Industriale di Bresciani ha deciso di impugnare la delibera di Regione Lombardia che delinea quello che è l'indice di pressione. Monticari e altri 33-34 comuni si sono uniti e tutti insieme combattiamo contro AIB. Adesso, combattere contro AIB forse non è neanche corretto da dire, però combattiamo a favore della delibera dell'indice di pressione perché non è una lotta contro AIB, non è la lotta contro l'industriale, è la lotta a tutela della salute e a tutela dei nostri territori. Adesso, nessuno dice che l'industriale non deve espandersi, non deve fare economia, non deve fare sviluppo, ma è anche vero che lo sviluppo deve essere sostenibile e soprattutto non deve essere uno sviluppo a danno della popolazione e della cittadinanza. Quindi, che a Montichiari, Calcinato, Bedizzole, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, insomma, questi territori che sono ampiamente colmi e stracolmi di discariche, l'industriale non deve venire a chiedere di aprire un'altra discarica. Questo non esiste perché il bene principale da tutelare non è lo sviluppo economico, ma è la salute. Poi, è chiaro che bisogna sempre trovare una forma di equilibrio, ma mi pare che nei nostri territori l'equilibrio l'abbiamo ampiamente superato e non, certo, a vantaggio della popolazione, ma a svantaggio. Allora, dunque... Quindi sì, io ritengo che l'esito sarà positivo al TAR. Poi è chiaro che invece il Consiglio di Stato è un ente un pochettino più particolare e forse anche più sensibile rispetto alle esternazioni degli altri enti. Insomma, un po' più sensibile. Quindi vediamo, sarà decisivo il Consiglio di Stato. Però, ripeto, credo che ci siano tutti gli elementi giuridici per una vittoria positiva al TAR. Certo. Allora, c'è anche... Adesso io accorso un messaggio lunghissimo. Esprimo anche solidarietà anche a chi era venuto prima di voi perché la colpa era aver usato metodi forti per evitare nuovi casi di malattie e cose di questo tipo. Insomma, dice... Termina dicendo che lo Stato prevede la galera per chi si difende. Poi, in un altro messaggio, ho cancellato la prima parte, purtroppo, e ho ottenuto solo l'ultima in cui c'è un'espressione colorita. Comunque gliel'aveva mandato Matteo in cui dice, faccio una cosa, gli sfidi. Come Erin Brokowicz diceva, a bersi l'acqua presa dai pozzi vicino alle loro cose. Sì, soprattutto la prima falda che è notoriamente risaputo che è colma di tetra, cloro e tilene. In realtà non è un problema solo di Montichiari, ma è un problema di tutta la provincia. Ma è anche vero che sotto l'Ate 43, quindi dove ci sono le discariche e le cave, c'è un problema proprio di falda. Ma è anche vero che a Montichiari l'acquedotto lo peschiamo dalla terza falda, che invece è continuamente controllata e in questo momento è buona. Però se noi continuiamo ad aggiungere quello che c'è sopra, poi l'inquinamento scende dalla prima, passa la seconda, la seconda, la terza. Cosa che vogliamo ampiamente evitare. Allora, tornando alla neve, chiedono perché non avete le scuole? Non avete? Le scuole, non so. Cioè pulito, chiuso? Allora, pulito le abbiamo pulite perché stamattina alle 4.00 i mezzi sono partiti a pulire apposta le scuole. Perché effettivamente questa è l'esperienza paga. Un mese e mezzo fa, quando ha nevicato, avevamo tralasciato l'aspetto delle scuole. Invece abbiamo delle bellissime scuole che hanno un passaggio, cioè dal cancello arrivare alle scuole non erano stati puliti, i bambini erano tutti bagnati i piedi. Quindi abbiamo pulito, abbiamo creato dei vialetti all'interno delle scuole. Certo. Se è questo a cui si riferisce la domanda. Allora, continuo a lottare contro i veleni, anche le dicono. Salve, Assessore, ringrazio la Giunta perché finalmente ha a cuore i cittadini. Andate avanti anche nell'abbattimento delle barriere architettoniche, vi dicono anche. Sì, io credo che, ecco, di bello, sicuramente chi amministra, in teoria, nel caso di Montichiari, proprio nella pratica, ha a cuore i cittadini. Nel senso che io da amministratore sono innamorata del mio paese e mi metto a servizio del mio paese per cercare di migliorarlo. Poi è ovvio, quello che ritengo sia la cosa migliore per me non sarà mai la cosa migliore per te o per qualcun altro. Però, quello che c'è di bello nell'amministrazione che ci tengono ai loro cittadini è questo, l'amore e la passione. Perché poi è una passione, è far politica. Allora, da Medole le arriva questo messaggio. Lei è troppo simpatica, ce ne fossero di persone così. Ma vero, è perché non ho il dono della bellezza, però almeno quella è la simpatia. No, non è vero, beh, lo so. Allora, la simpatia sì, ma non... Allora, a Borgosotto c'è il lancio della spultina. Beh, non solo a Borgosotto però, eh. Eh, no, è un problema generale. Ma poi, adesso, negli ultimi giorni sto girando tantissimo la provincia e i territori e appena tu vai fuori dal centro è così, le campagne sono piene, i fossi sono pieni. Ma noi stessi non riusciamo a raccogliere. Cioè, li raccogliamo e il giorno dopo è già di nuovo sporco. Tanti mi dicono, non li raccogliete. Non è vero che non li raccogliamo. Le pesate, i numeri li abbiamo e li facciamo, però non ci stiamo dietro effettivamente. È una cosa allucinante. C'è un senso civico che proprio non esiste. Non ha voglia, la gente non ha voglia di dividere e di di fare il minimo sforzo. C'è questa, questa sì, obiettivamente è un'incanza di civiltà che è purtroppo un'intera. ma è anche pigrizia se ci pensi. Così come le persone non tollerano di dover parcheggiare a 50 metri dalla scuola. Allora, scrive un messaggio più provocatorio. Adesso lo vado a leggere. Adesso avete la scusa della neve per non finire i lavori, dice Marco. Ma va, figurati. Ma adesso io non lo so, probabilmente la gente pensa che l'amministratore medio sia lì per dar fastidio alla gente. Ma prima di tutto l'amministratore deve far contente le persone perché altrimenti non viene eletto e non viene rieletto. Quindi siamo lì anche per questo. Secondo, siamo lì 20 ore in comune tutti i giorni. Secondo te siamo contenti che i lavori si protraggano? Secondo te siamo contenti di continuare a venire in piazza a sollecitare e a cercare di rimediare il disagio perché lo sappiamo anche noi, siamo anche noi residenti e a Montichiari che per andare a casa devo fare il giro dell'oca. Anche a me è scomodo. Poi in questo momento non sono residente in piazza e non ho un'attività commerciale in piazza quindi non lo vivo in maniera così grande e così preoccupante come lo vivono i commercianti però credetemi siamo noi i primi a voler evitare il disagio. Certo, mi ricorda un sindaco non mi ricordo quale fosse rispondendo a un messaggio una telefonata e dice guardate che non è che l'amministratore si alza la mattina e dice beh quel senso unico lì lo inverto oggi poi no cioè l'amministratore raccoglie i disagi delle persone raccoglie le lamentele si confronta perché se no ti confronti lasciamo stare perdi completamente il contatto alla realtà non sei giudice giuria e non sei un imperatore ma sei un semplice amministratore protempora e poi decidi e fai quello che ritieni giusto non pensate che ci siano sempre i retropensieri dietro alle cose la giornata dell'albero sarebbe utile dicono Soldini però lei ha già detto mi pare una volta ha spiegato che i ragazzini i bambini eccetera sono attenti alla differenziata si sono bravi sono gli adulti si sono bravi i ragazzini sono veramente bravi anzi nelle scuole abbiamo investito tante continueremo a farlo lo faremo anche quest'anno sono veramente bravi e sono lo stimolo a continuare a investire perché oggi sono assessore io e devo lavorare con chi ha la mia età o con chi è un pochettino più anziano per cercare di migliorarlo quando saranno assessori loro i ragazzi che hanno oggi 7-8 anni spero che non dovranno lavorare al mio stesso modo ma non dovranno lottare con quello che butta via la borsina poi il caso estremo ci sarà sempre però speriamo che lavorando adesso poi un domani qualcun altro sia un po' più un po' più intelligente e rispettoso dell'ambiente che lo circonda e quindi appunto allora dunque siamo in dirittura d'arrivo vorrei chiedere a Maria Chiara Soldini come vuole concludere come vuole salutare i suoi concittadini allora innanzitutto state attenti in questi giorni c'è la neve ripeto siamo tutti in servizio da stamattina alle 4 perché io non sono andata a spalare la neve ma comunque alle 4 ero sveglia per verificare che i mezzi fossero usciti amministratore è questo essere innamorati del proprio paese e cercare di migliorarlo e vi prego di non generalizzare la politica adesso si parla tanto di politica ovunque c'è questo spam di politica che è quasi diventato quasi insopportabile però non unite quelli che sono gli amministratori che amano il loro paese che lavorano per il loro paese a quello che è il politico inteso il mala politico quindi non pensate che siamo lì a voler allungare i tempi a voler allungare i tempi dei lavori figuriamoci non vediamo l'ora di chiuderli di inaugurarli e ricordate che l'amministratore ama il proprio territorio in genere poi è chiaro che ci sono dei casi estremi quindi davvero vi invito a chiamare in comune i numeri ci sono in internet ci sono il mio indirizzo mail è conosciuto mariachiara.soldini chiocciolomontichiari.it oppure 030 96 56 290 prendete appuntamento e venite non scrivete su facebook non lamentatevi inutilmente su facebook perché risposta è difficile che la otteniate perché grazie al cielo come amministratore abbiamo tantissimo da fare e su facebook ci siamo veramente poco io poi vi invito a pensare anche a chi sta su facebook tutto il giorno e chiedetevi se fossi un amministratore che passa 4-5 ore su facebook chiedetevelo cosa faccio lavoro per monticari no quindi ci vado ci vado per i cavoli miei non lo nascondo lo vedo io lo vedo come una cosa personale più che di lavoro però scrivete scrivete chiamate scrivete informatevi se dovete anche dircele dietro ditecele però non fatelo così lì lanciato in aria fatelo di persona che almeno una risposta la sentite allora va bene siamo sono polemica oggi ringraziamo tantissimo ringraziamo su twitter neanche si può scrivere va bene ma una cosa random è un conto per pav condicio le questioni serie vanno affrontate di faccia dai grazie a voi grazie grazie a tutti